ecco questo povero ago abbandonato che noi lasciamo sempre vicino al picchetto e poi regolarmente ce lo dimentichiamo e lo perdiamo perché è sempre così chi è che non ha perso quantità industriali di aghi perché non sa dove metterlo per fortuna con questo accessorietto che ha fatto il mio amico gabriele de ias è talmente utile che ho detto questo lo faccio vedere si attacca a qualunque picchetto io ci metto l'ago dentro e ce l'ho sempre a portata di mano e vi dirò di più ci metto anche il filo elastico così non perdo neanche il filo elastico